BDM 2024, siamo alla Fiera di Levante di Bari, nello stand di Fonditalia, qui con me Anna Clemente, è una specialista dell'area risorse umane della CDA Group, un'azienda leader nel settore dell'IT e del marketing. Benvenuta Anna. Grazie. Anna, quanto è importante per un'azienda come la CDA Group investire in trasformazione dei propri collaboratori? E' importantissimo, siamo un'azienda appunto sopra nel settore marketing, quindi per noi è fondamentale l'innovazione, ovviamente. L'innovazione è sicuramente molto facile, grazie alla formazione di Fonditalia. Che tipo di percorsi di formazione avete realizzato fino a ora? Allora, abbiamo realizzato varie percorsi di formazione e grazie a Fonditalia abbiamo svolto per esempio un corso di inglese, per esempio un corso di inglese, un corso di inglese, un corso di inglese, un corso di inglese, un corso di inglese ancora in corso, questa volta tutto costato, e attualmente stiamo finanziandoci, un corso di inglese, 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 un corso di inglese e un corso di inglese. Quindi la quasi totalità dei lavoratori e dei dipendenti sono stati impegnati in formazione. Ti chiedo questo, quanto è importante avere a che fare con un fondo come Fonditalia che ha previsto tanti sportelli durante ogni singolo anno che permettono poi anche all'azienda di poter pianificare l'attività formativa lungo tutto l'arco dell'azienda. È fondamentale ovviamente perché nel corso del tempo, proprio nell'ottica di una formazione continuata, nell'ottica di innovazione continua, con l'Italia ci supporta, ci consente, la formazione durante tutto l'anno è tutto per tutti i dipendenti.